Andiamo ora a Serra Valle di Chienti per la prima estemporanea di pittura Memorial Marina Molini, scrittrice e poetessa scomparsa all'età di 39 anni. Floriana Gavazzi. Serra Valle di Chienti, storia e natura, immagini per cartoline d'autore. Questo è il tema scelto dal Comune che ha organizzato l'estemporanea di pittura en plein air in collaborazione con la Proloco, l'associazione Davarano e la famiglia Molini. Un'iniziativa per tenere vivo il ricordo di Marina Molini, scomparsa 25 anni fa, pubblicista giornalista originaria di Serra Valle, con la passione per la pittura che nel paese del maceratese ha trascorso l'infanzia e ha lasciato tanti amici. 23 appassionati di pittura dal vero sono arrivati da tutte le parti d'Italia e hanno scelto un angolo del paese ricco di bellezze naturali e artistiche da ritrarre con le tecniche più diverse, dall'olio all'acquarello al carboncino. I loro lavori diventeranno cartoline postali per documentare il fascino del paese del maceratese dopo l'attenta ricostruzione seguita al terremoto. Al termine di una giornata di lavoro, sotto gli occhi di un pubblico interessato, gli artisti hanno consegnato le loro opere alla giuria, presieduta dal celebre incisore Eros Donnini, che ha assegnato primo, secondo e terzo premio. A fine giornata l'inaugurazione della mostra nel palazzetto dello sport Diego della Valle. Tutti i lavori, compresi alcuni quadri di Marina Molini, resteranno esposti fino al 31 agosto. La gara di pittura si è tenuta in contemporanea con la sagra dei vinci sgrassi e un mercatino e la serata si è conclusa con una degustazione di prodotti tipici locali.